Miei cari confratelli, e poi voglio in questo momento fare riferimento alla quinta linea programmatica del nostro Sesenio. Abbiamo già riflettuto sulle quattro precedenti. La quinta ci dice e ci parla della nostra predilezione e priorità absoluta per i giovani e particolarmente per i giovani più poveri, abbandonati, indifesi. Sono le Costituzioni nell'articolo 26 che ci parlano di questa predilezione perché è stata la predilezione di Don Bosco. Potevo anche fare la registrazione di questo capitolo, di questa linea programmatica, sicuramente in uno dei miei viaggi con tanti ragazzi, però ho fatto una piccolissima scelta. Mi trovo qui nella bellissima Chiesa di Maria Auxiliatrice a Roma e oggi qui da solo, non da solo nel cuore, però sì in questa Chiesa, ma con due grandi amori di Don Bosco e nostri, l'Auxiliatrice e il Signore. Perché giustamente Don Bosco, per il suo amore alla Madonna e al Signore Gesù, ha capito che tutta la sua vita doveva essere una vita per i ragazzi, per i giovani e tra questi i più bisognosi. E questo è il nostro segno di identità. e la proposta che faccio, che ho titolato anche come una delibera capitolare, io so che non è così perché già questa predilezione si trova nelle nostre Costituzioni, però è stato come un invito a dire per tutti noi salessiani di Don Bosco e in tutto il mondo. Questa predilezione per i giovani, per i ragazzi, e tra questi i più bisognosi, deve essere il nostro segno di identità. Deve continuare a essere sempre il nostro segno di identità. Tutte le 92 ispettorie del mondo dobbiamo guardare sempre a questa bellissima sfida e dirci veramente noi siamo per i giovani e tra questi i più poveri. E dicevo alla fine nelle linee programmatiche che dobbiamo avere la fortezza, anche il coraggio, di guardare al volto dei nostri ragazzi e giovani. Perché guardando con il cuore di buon pastore, guardando con un cuore come quello di Don Bosco, noi vedremo la storia dei nostri ragazzi e giovani. E sicuramente tante volte riusciremo a toccare un po' le loro storie, il suo dolore, la sua solitudine, le loro difficoltà, le loro debolezze. E come salesiani di Don Bosco, i loro dolori sono dolori per noi. Perché giustamente se amiamo ai giovani non possiamo non sentire il dolore per quello che colpisce la loro vita. Perciò, miei cari confratelli, penso che ho parlato di questo in tutto il mondo, in tutte le ispettorie, in tutte le nazioni che ho visitato. e continuo a dirlo. Per noi è essenziale, è un segno carismatico e identitario la nostra predilezione per i ragazzi, per i giovani e tra questi i più deboli, sfruttati, colpiti per quello che è duro nella vita. Vi invito coraggiosamente a continuare su questo cammino di fedeltà al Signore Gesù tra le orme di Don Bosco. Grazie, saluti a tutti con tanto affetto. Grazie.